Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Moira e oggi cominciamo il gameplay di Koma, un simpatico giochino in flash e direi di cominciare subito per vedere di che cosa si tratta Eccolo qui, Koma, iniziamo Ah, va bene, noi siamo questo cosino qua nero Cos'è c'è scritto? Run più jump, ah vabbè, lo avevo capito Ok, va bene, di qua ti piacerebbe suonare il piano? Va bene Ah, che carino Ok, basta adesso però, andiamo avanti No, c'è qualcosa di qua, no, c'è solo questo Va bene, andiamo avanti Oh che bella, bellissima questa grafica, mi piace un sacco Cos'è che c'è scritto là in alto? Questo mondo, eh? Non riesco a leggere, vabbè Andiamo avanti Non posso passare qua sotto? No Ah, ok, passiamo sopra il tavolo Suonare il campanello della porta Va bene, andiamo Ah, siamo fuori Cos'è un uccellino? Pit È un uccello sopra di... c'è un uccello sopra di te Va bene Cosa devo fare? Ah, ciao, uccello Il papà mi ha rinchiuso qui? In questa stupida gabbia Vuoi ascoltare? Ascoltare cosa? Ha rinchiuso tua sorella nei sotterranei Oddio Lui dice che la vuole trattenere Credo sia trattenere Cosa? Sì Questo non lo so Però comunque Potrebbe richiudere anche te laggiù D'accordo Però ora fammi uscire da questa gabbia Ok Facciamolo uscire Oh, che carino Possiamo andare avanti adesso? Andiamo Sì No Vai avanti Ok Ah, ma ci segue l'uccellino Ah, va bene E questo chi è? Posso fare qualcosa? No Posso... devo andare giù? Sì Di qua? No, non c'è niente Oh Dove è preso di andare figlio? Ah, questo è il padre che ha rinchiuso nostra sorella Meglio fare i vaghi Da nessuna parte Cerca di essere utile E... Devo fare questa cosa Va bene Sì, meglio farla Che magari non Non gli venga in mente di rinchiuderci anche noi È probabile che sia questo tipo qua Io lo so Va bene Ok, andiamo avanti Di qua Ma di qua non posso fare Ah, ok Andiamo di qua Ok Salta Eh, di qua non... È chiuso Devo salire sopra il tetto? No Ah, forse devo usare quei mattoni lì Forse Dai Ok Di qua? No Di qua? Sì Andiamo Ah, che belli i fiori Sto calpestando i fiori Bello, vero? Mi piace questa grafica Siamo per avanti Oh, e questo mi serve? Posso saltarci sopra? Oh, salto più in alto Vabbè, ma adesso non è tanto utile Questo non fa niente Ehi Il mio nome è John Ma sono una ragazza Va bene Ciao, ciao Così ascolta Bella Vabbè Hai mai sentito parlare di Shilbel? No Ah no, non sei mai stato Shilbel Loro dicono Che la destra è la sinistra E la destra E oddio, che complicato Forte Andiamo avanti Andiamo avanti Posso fare Oh Posso rompere Cosa sono? Le specie di fragole Plastificate Ok Tu non fai niente? No Allora andiamo avanti Ah Questo cos'è Sempre i soliti fiori Non posso passare No Posso saltarci sopra? No Sì Sì Ok Salta No Riproviamo No No Ok Ok Salta Provisi Andiamo avanti E questo? Chi è? Ehi Quassù Mi vedi? Sì Ti vedo Tranquillo Ma cosa fa? Vabbè Sì Ti vedo Ehm Va bene Lasciami in pace D'accordo No Non ti disturbo Possiamo andare avanti Posso aggrapparmi anch'io? Posso salire nell'albero? No Ah Posso distruggere questo Sì Oh E qua cosa c'è? C'è qualcuno Dentro Lo vedete? C'è qualcuno dentro Ha quel buco Nella montagna Possiamo andare? Sì Aiuto Aiuto Sono Bloccato Che cosa è successo? Non è ovvio No Non è ovvio Sono Oddio Cos'è sta parola? Vabbè Non importa Come posso aiutarti? Portami un Ma Una sharp thing Che non so qual sia Va bene Ok Andiamo avanti Più tardi tornerò da te Sali Ok Andiamo avanti Oh Ma devo aggrapparmi a qualcosa lì Salta No No Non posso fare Riclicare niente No Mi sono già bloccata No No Di cano un passo Strano Devo tornare indietro Forse No Il tipo qua non mi dice Algo Non posso passare Eh allora Proviamo A tornare indietro Tu Mi dici qualcos'altro? No Devo cercare un modo Per salvare Il tipo qua Questo continua a dondolarsi Va bene Divertiti Posso Sì posso saltarlo Sempre i soliti fiori Ah si sono ricomposte le fragole Plastificate Da corso Questo al momento Non mi serve niente No Storniamo indietro Eh qua torniamo praticamente All'inizio del gioco Oh eccoci qua Ah va bene Va bene Ah posso prendere Il L'uncino Posso prendere il luncino? Magari posso salvare Il tipo incastrato là nel buco Posso Sì Posso anche pescare Magari Aspetta No Non penso Di poter pescare Però Aspetta Voglio vedere Posso pescare? No ok Volevo solo vedere Cosa succedeva Allora andiamo avanti Vai No Dai No Dai No Ok Ce l'abbiamo fatta Questo non serve a niente Qui c'è John Ma che in realtà No ragazza Qua Saltiamo No Sì Vai Ok Qui c'è il tipo Che si dondola Oh eccoci qua Vediamo se possiamo salvare È un uncino questo Sì Ok 3 2 1 Via Oh bene Ce l'abbiamo fatta Grazie Grazie Nessun problema E adesso Ah possiamo proseguire Ah guarda dove siamo arrivati Ok allora Allì E adesso Devo aggrapparmi a Devo salire? No Sì? Ah forse adesso devo saltare a aggrappar Oh Dio dove siamo capitati Posso tornare su? Mi sa di no Non siamo sicuri Non voglio andare giù È troppo buio Non vedo niente Dai No Non può essere Mi sa che non dovevo andare di qua Vabbè Proseguiamo a sto punto Cosa? Ah svegliati Pit Ehm Mi sa che Pit È il nome Del nostro personaggio Poi Potrei prendere La luce Certo Prendi Prendi la luce Ah È l'uccellino Ah che bello Ci fa Da lumino Ok Beh ma Questa cosa È davvero Molto inquietante Ok allora io ragazzi direi di stoppare qua il video In questa scena molto inquietante Lasciate un mi piace e un commento se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al mio canale E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti